Esatto, la Chiesa italiana è completamente solidale con la Chiesa catanese per assicurare una continuità al servizio che l'Oda reca a tutto il territorio, non soltanto catanese ma sicuramente siciliano, per fare in modo che questa continuità assicuri il servizio a cui Sua Eccellenza faceva riferimento in maniera tale che sia possibile superare alcune criticità del passato e guardare avanti con maggiore prospettiva e con maggiore certezza al futuro. È un affiancamento quindi che la Chiesa italiana svolge nei confronti della Chiesa catanese in maniera tale che possano essere superate le difficoltà note e poter recuperare in pieno quello che è in servizio al territorio.